Musica Abbiamo qui il protagonista dell'estate, il vero protagonista, colui che ha preso il posto del Morati dei bei tempi, il secondo di ogni torneo. Allora, come se fosse adesso che vai a Campora, scegli il tuo compagno, come credi che potreste finire? Sicuramente il secondo, come 3 su 3 abbiamo fatto, ci manca solo il quarto, non c'è niente da fare, il secondo posto ancora. Allora, prematurando precedentemente, come se fosse scivolando nei passati, nei ricordi, qual è il torneo che più ti ha enfatizzato? Noceto, sicuramente uno di Noceto, che per due anni sono altro che il finale, il finale, l'anno prima abbiamo fatto la soddisfazione di battere i cubani, prima o poi, la maledizione non è effetto, magari all'anno prossimo può iniziare, se la maledizione abbandona. Certo, e invece parlando del tuo futuro in squadra, quest'anno Bottioni, non si sa chi sopra c'era questo, come lo vedi? Chi sopra? Cosa vuol dire? Non ho capito un cavolo. Allora, precedentemente, l'anno scorso, facendosi riferimento a... Parli di Noceto o campionato? No, campionato vero e proprio. Abbiamo lasciato pioni? Eh, hai lasciato pioni? Sono in difficoltà, vorrei che parli bene di questa scelta? No, no, in generale, come se fosse... Sì, l'anno prossimo lo siamo per me a procedere. Perfetto, grazie mille. Prego. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permette. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai come falina, come antiputo.